Grazie, e ora tra un attimo potremo avere con noi l'attrice che ha dato vita a personaggi importanti sullo schermo, da Derry Gers, con la competitiva Elea Leclerc, alla regina dei gossip di Bridgerton, Penelope Federinton. E ora Nicola Coulan ritorna nella commedia con Big Mood, che segue la storia di due migliori amiche, Maggie e Daddy, qui mentre tornano alla vecchia scuola di Maggie. Quella storia menzionata dall'insegnante, qual è il suo nome? Non me lo ricordo. Maggie. Mr. Wilson. Ok, Mr. Wilson è hot. È molto hot. Oh mio Dio. Non ho dormito per una settimana, potrei avere delle occhiaie che so mio un panda? Maggie. Ok, ok. Mr. Wilson potrebbe essere la mia anima generale. Qui con noi Nicola Coulan. Ciao. Oh mio Dio. È un onore averti qui. Abbiamo tanto di cui parlare, voglio dire Bridgerton, Doctor Who, film, ma questa nuova commedia. Se potessi tornare indietro di sei anni, avresti mai pensato che la tua vita potesse essere così, con milioni di fan per il mondo, incluse le Kardashian? È incredibile, è davvero folle. Marti Scorcese era un folle, era un fan di Derry Girls. Wow. Ed ero tipo, non so come fai a capire l'accento nostro, è bello, è davvero impressionante, sì. Come l'hai scoperto? Lui ne ha parlato in un panel e penso sia un grandissimo fan di Chival Nessunni, la sorella di Mike. E chi non lo è? Esatto, chi è non lo è? Sì, esatto. È incredibile che sono nomi che puoi trovare in giro, quello show è incredibile. Parliamo di Big Mood, prima di tutto del tuo personaggio Maggie e della sua migliore amica Eddie. Come descrivi la loro amicizia? Da quello che abbiamo visto è divertente. Sì, loro sono migliori amiche da dieci anni e stanno entrando nei trenta e stanno realizzando che ci sono cose carine e divertenti nei loro venti e che non possono più fare nei trent'anni. Arrivi alla consapevolezza e devi crescere e sposarti, decidere cosa fare della carriera. Ci sono errori che fai e che sono seri, forse sono anche un po' codipendenti loro due. Il mio personaggio Maggie poi soffre anche di disturbo bipolare, il che sarà un punto focale della serie e cambierà molto la sua vita, sì. È interessante come tu abbia descritto di sistemare la vita dei tuoi trenta, è un po' complesso. La andrete ad esplorare nella storia e è bello vedere questa amicità competitiva tra due ragazze. Credete che le persone si riconosceranno? Io credo che lo faranno molto perché è una cosa bella che tu ti svegli la mattina e dici devo crescere ma non sono pronta per questo e sapere di avere qualcuno perché a trent'anni ci sono amici che sono a casa sposati con figli e ci sono altri amici a Londra che fanno questi parti pazzeschi e vanno ai festival quindi ogni vita è diversa e quindi questo vuole mostrare lo show, sì. Quindi è un po' diverso. È un po' di disco. Sì, della serie che ci faccio in questo show, sì. Lo scopriremo solo guardandolo. Assolutamente. Abbiamo avuto anche alcune domande sulla mail. Questa ragazza ci scrive che ti ringrazia di recitare un personaggio con questo tipo di disturbo perché non se ne parla molto in tv, però ti chiede anche come ti sei preparata per lei. Beh, lo script è stato scritto dalla mia migliore amica Camilla White ci siamo incontrate alla scuola di teatro nel 2008 che c'è stato tempo fa, lo ammetto e qui non eravamo alla scuola di teatro, eravamo da Eci che era il ballo della nostra scuola a Beeringham Sì, ma è uno script brillante, è una commedia prima di tutto che porta a drammi oscuri ma Maggie è solo un'umana che si ritrova con un disturbo bipolare e penso che Camilla voglia mostrare la salute mentale che ha una sua personalità e quindi, beh, sapete, è difficile recitare una persona depressa e divertente se hai uno script brillante Quindi sì E questo rende tutto reale perché le persone, come hai detto, possono esserlo e pensarci spesso a questo Maggie ha cambiato il modo di vedere la salute mentale e quale messaggio si vuole dare guardandola? Eh, l'ha fatto, devo essere onesta perché penso che ansia e depressione siano molto comuni tra le persone e c'è una vera crisi della salute mentale nel nostro paese Anche in Irlanda le persone sono diventate abitudinarie nel parlarne ma allo stesso tempo il disturbo bipolare è complesso e imparare a gestire le manie e le immaginazioni diventa difficile parlare di te Non è come avere la droga o cose del genere, è molto complicato e non confortante Per cui penso che lo show non abbia paura di mostrare tutti questi posti non comportanti Ma sarà divertente, è una commedia Non vediamo l'ora Aspettiamo Kate era cool, Daphne super cool Penelope una semplice nerd Quindi questo è per tutti i nerd che devono brillare Nicola, grazie mille Big Mood inizia il prossimo giovedì alle 10 di sera su Channel 4